Facciamola semplice, i record nazionali sulle distanze dei velocisti 60, 100, 2 e 4 portano il mio nome Fantastico, non parliamo poi dell'argento e del bronzo degli europei del 2016, la finale a Rio del 2016, insomma Olimpiade! Olimpiade alla grande! Ma mica ci arrivano tutti all'Olimpiade Com'è, com'è vivere con l'Olimpiade dall'interno? Guarda, va detto che io ho realizzato di aver corso un'Olimpiade quando sono tornata Bellissima Io non mi rendevo conto di cosa stava succedendo In quel momento era totalmente normale No, per me era una gara internazionale come tanti L'ho vista come una tappa importante, come se fosse una tappa della Diamond League Che chi segue l'atletica sa cos'è la Diamond League E quindi per me avevo quell'adrenalina di un meeting internazionale Bellissima la cerimonia d'apertura, di chiusura Insomma, certamente indossare la maglia dell'Italia A rappresentare l'Italia Io l'avevo già fatto a due mondiali e due europei L'Olimpiade è una gara a sé È un mondo a sé Sì, è tutta un'altra storia Purtroppo ho mancato, l'ho persa Nel senso che io arrivai a Rio stanca, un po' di testa Sai, quando tu arrivi a un'Olimpiade gli atleti sono tutti preparati Se no non arrivi all'Olimpiade Non ti selezionano Se tu arrivi lì vuol dire che hai un livello tale da poter ben figurare a un'Olimpiade Altrimenti lì non ci arrivi Vince chi è più forte di testa Io riconosco di essere arrivata un po' stanca mentalmente Per via di tutta una serie di cose che si erano succedute nelle settimane precedenti E la prima gara d'esordio fu proprio quella dei 400 metri La gara dove io ero tra le favorite Mi davano già al podio Nelle gambe avevo i tempi per andare al podio Potevo vincere un bronzo importante Ho sbagliato in curva La seconda curva Ho perso l'equilibrio Ho ceduto di testa E ho pestato la linea bianca che determina le corsie Che ricordiamolo per chi non è addetto ai lavori Significa squalifica Allora lì per lì Sì, le regole sono uguali Anche per noi paralimpici Non è che cambia niente Ci fanno sconti Avevo lavorato tanto per quella gara Quindi mi sono subito resa conto Di aver commesso un errore gravissimo Che non era mai successo neanche in allenamento Mai Da buona terruccella Ci abbiamo provato Continua Dico magari nessuno se ne è accorto Ma siamo un'Olimpiade Lì c'hai lo zoom pure sulle mutande E quindi gli ultimi 60 metri Ho mollato Consapevole che avrei tagliato il traguardo Con una squalifica E quando ho letto sullo schermo Disqualified Brutto Tra l'altro avevo la caporale in diretta Con Rai Sport Che mi intervistò subito lì In quel momento che dici In quel momento ho dovuto sorridere Anche quando non avevo voglia di sorridere Un po' quello che dicevamo in apertura Come stai bene Anche se stai male Ti viene da dire bene Cioè è corretto dire bene E io in quel momento Non ho nascosto la mia amarezza Non mi sono nascosta dietro alibi Ho riconosciuto Che avevo sbagliato io Però insomma ho lanciato un messaggio A un mio allenatore Che mi guardava in diretta Dicendo fra due giorni C'è la semifinale di 200 metri Quindi Cercherò di recuperare Ho sbagliato Ma non si può tornare indietro Dobbiamo guardare avanti L'Olimpiade non è finita E devo dire che lì fu determinante Mia madre Che diciamolo Non è una storicamente Positiva Una che dispensa Come dire Sorrisi No sorrisi Forse sorrisi sì Magari positività in questo senso Motivazione Lei mi disse una cosa Che penso sia stata Veramente la frase Che in assoluto Avevo bisogno di sentirmi dire In quel momento E che ha cambiato Il mio approccio mentale In quell'Olimpiade Io ero devastata Distrutta Ero arrabbiata con me stessa Sapevo di aver fatto un errore Veramente da dilettante E io non l'avevo mai fatto Mia madre si avvicinò a me Prima che ci riportassero Al villaggio olimpico Eravamo nell'area warm up dietro E mi disse Oh Dieci anni fa Muovevi i primi passi Su delle stampelle Ora sei a un'Olimpiade Qui ci arrivano solo i più grandi Non hai bisogno di una medaglia Al collo per ricordarti Che hai già vinto E sentire dire Da mia madre Questa roba qua In effetti Devo dire la verità Mi ha scosso parecchio Però mi ha dato Quella giusta carica Per affrontare Una semifinale Da paura Tanto che sono stata poi L'unica italiana Entrare in finale Nella gara dei 200 metri Che è stata la gara Più bella Che mi ha lasciato Veramente un ricordo Speciale Delle Olimpiade Dove pure le mie Compagne straniere Insomma Sono venute a farmi Complimenti E Il mio allenatore Mi ha chiamato Dall'Italia Per dirmi Sai che li fanno I controlli Anti-doping Perché non hai corso Così l'altro ieri Perché 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 capita Perché nelle gare Di atletica È one shot Quella Quella è Però One shot One opportunity Come dice Eminem Tornando un attimo Alla musica